ma ti rientro proprio ma ti rientro proprio ma ti rientro proprio ma ti rientro ma ti rientro ma devo dire ho gestito abbastanza bene senza problemi avete ripreso proprio il momento della vaccinazione si entro alla fine 118 tutto bene siamo a mettere siamo a mettere il puntino ecco io non salviamo non salviamo Grazie a tutti. La conferenza episcopale siciliana ha accolto la proposta della regione, dell'assessorato per la sanità, di mettere a disposizione i locali di 500 parrocchie. Di fatto sono circa 300 parrocchie che stanno usufruendo di questo servizio, di questa opportunità che, ripeto, viene data alle persone per accelerare la vaccinazione. Più centri di vaccinazione ci sono, prima finiamo. Dunque la regione lo ha proposto alla conferenza episcopale e noi benvolentieri abbiamo lavorato per realizzare questa giornata attraverso anche un protocollo d'intesa che è stato firmato tra Monsignor Cristina, presidente della conferenza episcopale, e presidente Musumeci. Il Papa Francesco domenica scorsa all'Angelus della Domenica delle Palme aveva sottolineato che la pandemia l'anno scorso ci ha scioccati. Quest'anno siamo più provati e allora se questo può giovare, può agevolare la vaccinazione per uscire da questa prova che tutti auspichiamo e aspettiamo presto, ben venga e dunque siamo qua a mettere a disposizione i nostri locali.